L'Italia sotto Napoleone. L'argomento della diretta di stasera è sicuramente un po' tornare indietro perché ricordate che l'ultima volta abbiamo visto anche cosa è successo a Sant'Elena il 5 maggio del 1821 e quindi abbiamo visto un po' come è finita la parabola diciamo esistenziale e storica e politica di Napoleone. Però stavolta vogliamo ritornare indietro un po' a parlare dell'Italia napoleonica e soprattutto cercare di trarre un po' delle conclusioni che poi sono molto simili a quelle che sono state le nostre introduzioni. Ricorderete che abbiamo iniziato il nostro percorso infatti con il 5 maggio di Alessandro Manzoni. Quella è la prospettiva che a noi pare la più intelligente quindi la prospettiva di chi non adula o di chi non denigra Napoleone cioè di chi cerca di essere un pochettino più oggettivo nel giudizio e quindi riscontrare quelli che sono i vantaggi ma indubbiamente anche gli svantaggi di quella che è stata ad esempio la discesa di Napoleone in Italia lo vedremo in modo particolare oggi ma in generale di quella che è stata la figura un po' controversa di Napoleone. Ricordiamo che il tutto è iniziato con la campagna d'Italia. I rapporti tra l'Italia e Napoleone sono iniziati quando lui ha la guida di 40.000 uomini che non sono tanti. Se pensiamo che ce n'erano ben di più nei contingenti che si diressero verso la Mosa e il Reno per contrastare le truppe per esempio prussiane contemporaneamente in quello scorcio tra il 1796 e il 1797. E quelli erano molto meglio equipaggiati, erano più numerosi, perché il direttorio alla guida del quale era la Francia e anche gli eserciti puntava molto di più su quel fronte più a nord rispetto al fronte italiano. E quindi aveva assegnato il fronte italiano a un generale che si era già sicuramente distinto, ricordate nella repressione contro i realisti o lealisti, insomma contro i monarchici e in tante altre azioni durante la rivoluzione francese. Ma che era pur sempre un 26enne, era un giovinetto, insomma, non ci si poteva, si pensava almeno, diciamo, affidare troppo a questo 26enne. Non poteva essere così esperto, invece lui era esperto, era espertissimo, era esperto di artiglieria, sin da quando aveva 13 anni coltivava in questa accademia militare, di Abrienne e nell'altra accademia militare francese che aveva frequentato, aveva proprio, come dire, in un certo senso fortificato questa sua propensione per l'artiglieria, per la strategia militare. E adesso è il momento di mettere in pratica tutte queste cose. Anzitutto cercando di organizzare questo esercito, che era un esercito, ripeto, un po' di secondo piano per i francesi, e di convincere, di motivare, insomma, i soldati. Da questo momento in poi lui avrà un rapporto con i soldati strettissimo, e i soldati capiranno che è proprio lo stare insieme, vicino a lui, che può permettere loro di ascendere anche da un punto di vista sociale, ma soprattutto da un punto di vista, vi dicevo, delle motivazioni. Sono in perfetta sintonia con lui, si sentono davvero uomini di Napoleone, da adesso fino a quando termineranno le campagne militari. Molti di essi, infatti, lo accompagneranno, non dico per vent'anni, ma quasi. Ecco, già entrando, diciamo, nel territorio della Repubblica di Genova e della Piemonte-Sabaudo, immediatamente Napolone fa capire quanto sia forte, quanto sia capace di sconfiggere e sconfigge ripetutamente gli eserciti, sia degli uni sia degli altri. Tra l'altro ci si firmerà un armistizio, l'armistizio di Cherasco, se non erro, attraverso il quale Nizza e Savoia diventeranno francesi, e lo saranno per sempre, anche questo è un cambiamento. Ripeto, lui cambia, cambia la fisionomia dell'Europa. Nizza e Savoia diventano francesi, diventerà francesi a Vignone, che era un enclave pontificia da secoli. Invece lascerà la Louisiana agli Stati Uniti d'America. Tutti i cambiamenti epocali dovuti a questa persona qua. E' chiaro, evidente, che è una persona che ha, come dice appunto Napoleone, segnato due secoli, che si sono quasi inginocchiati davanti a lui. E' insomma uno che ha determinato un cambiamento nella storia. Questo bisogna riconoscerglielo. Così come bisogna riconoscergli una capacità militare straordinaria. Una volta, uno potrebbe dire magari l'esercito della Repubblica di Genova, la Repubblica di Genova, un po' come quella di Venezia, era sicuramente in una situazione tale da non poter opporre grandi eserciti alle milizie straniere. I Savoia già di più. Ma l'esercito austriaco, beh, quello sì. Quello sì che è un esercito veramente pericoloso, da temere. Eppure lui riesce a sconfiggere l'esercito austriaco nella importantissima battaglia di Lodi, importantissima in questa prima fase della prima campagna d'Italia di Napoleone. Sullo sfondo è visibile la cavalleria di Ordner, credo sia il generale austriaco, che guarda l'Adda, il 10 maggio del 1796, quando, appunto, invece è l'artiglieria francese, ottimamente guidata da Napoleone, gli ordini di Napoleone, che permettono a Napoleone di vincere questa importantissima battaglia. Da questo momento in poi le porte dell'Italia centro-settentrionare si aprono con questa battaglia di Lodi. Lui si volge anche un pochettino più a sud, verso l'Emilia-Romagna, dove ci sono delle legazioni pontifice. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato della Chiesa ha un suo cuore, possiamo così indicarlo approssimativamente come l'attuale Lazio, ma ha poi tante legazioni. Cioè, ci sono dei legati pontifici che amministrano tante altre zone, non so, dell'Umbria, delle Marche e dell'Emilia-Romagna. È proprio verso l'Emilia-Romagna che si indirizza Napoleone e libera Reggio proprio nell'agosto di quello stesso 1796 da questo potere pontificio, creando una repubblica, la Repubblica Reggiana, la Repubblica di Reggio. Ecco, qui vediamo per esempio che cosa scrive il Senato di Reggio. Tra l'altro voi dovete sapere che tutte le volte che si creano queste repubbliche filofrancesi si crea anche tutta una serie di istituzioni, che sono le istituzioni repubblicane. Quindi, per esempio, un assetto bicamerale di due camere. Ecco, una di queste due camere è appunto il Senato. E il Senato di Reggio, come dire, fa questo proclama ai suoi cittadini. A noi interessa soprattutto, la popolazione con la P maiuscola, a noi interessa soprattutto però ricordare questo perché la Repubblica Reggiana si dota di un tricolore sostituendo appena appena il blu con il verde del tricolore che è un tricolore reggiano originariamente fa nascere qualcosa che sarà importantissimo nella storia d'Italia perché poi sarà adottato dai Savoia ai quali aggiungeranno solo lo stemma, lo scudo del Savoia al centro sullo sfondo bianco, no? Ma che diventerà il tricolore italiano. E infatti a Reggio, a Reggio Emilia, c'è il Museo del Tricolore dove si trova, per esempio, anche questo appello, diciamo, del Senato alla popolazione, ai cittadini. Si creano altre repubbliche, come ad esempio la Repubblica Bolognese. Così si presenta la Repubblica Bolognese qualche giorno dopo, insomma, rispetto all'agosto del 1796 qualche giorno prima, il 23 giugno del 1796 si è creata, vedete, questa Repubblica Bolognese a fianco alle varie legazioni di Ferrara e di Romagna e il Ducato di Modena, anche essi comunque poi verranno assorbiti dalla Francia cioè si creeranno delle repubbliche la Repubblica Reggiana e la Repubblica Bolognese si uniranno ad altri territori quelli di Modena, di Ferrara, della Romagna per costituire la Repubblica Cispadana cioè al di qua del Po, a sud del Po Ciao intanto Nadia Dogaru La lotta con gli austriaci continua però soprattutto a livello di nord-est cioè andando verso nord-est l'opposizione degli austriaci è decisamente più potente più forte c'è una città che è anche roccaforte che è la città di Mantua che occorre superare per poter sconfiggere gli austriaci anche nel Veneto Mantua è ancora in Lombardia ma ormai quasi al confine con il Veneto e in questo caso invece di una battaglia di un giorno Napoleone dovrà affrontare un assedio di mesi e mesi ma alla fine riuscirà a vincere anche gli austriaci anche in questo tipo di battaglia particolare quindi riuscirà a rompere l'assedio di Mantua e questa vittoria insieme ad altre permetterà alle truppe francesi napoleoniche di dilagare anche nel nord-est dell'Italia quindi ad esempio anche nel Veneto nel frattempo abbiamo detto che era stata si crea insomma perché abbiamo visto che l'assedio di Mantua incomincia il 4 luglio del 96 nell'ottobre del 96 nasce la Repubblica Cispadana quella di cui vi stavo parlando prima poi vedremo anche le cartine non vi preoccupate come vedete anche nella Repubblica Cispadana RC abbiamo vedete il tricolore anche se le fasce sono orizzontali però vedete il tricolore anche nello stemma diciamo della Repubblica Centrale e abbiamo tutta una serie di cose sulle quali però rifletteremo alla fine adesso facciamo un escursus proprio degli avvenimenti di quello che ha caratterizzato insomma la storia di Napoleone in Italia ecco a Rivoli Torinese tra il 14 e il 15 gennaio del 1797 si combatte un'altra battaglia decisiva di questa prima campagna d'Italia e la vittoria sul campo di Napoleone sancirà la sconfitta dei Savoia che quindi perderanno il loro potere siccome loro sono re di Sardegna e insomma a quanto pare a Napoleone le isole non interessano tanto poi un'isola come la Sardegna non lo so per quale motivo però non aveva nessuna intenzione di andare a conquistare anche la Sardegna allora le Savoia si rifugiano in Sardegna intanto non ora eh sto guidando non distraetemi ciao JZ poeta e quindi il Piemonte anch'esso diventa francese come la Lombardia come il Veneto perché perché Napoleone sta conquistando e ha conquistato il Veneto in tutta una serie di successi e di avanzate questa è la bandiera militare della Repubblica Cisalpina come vedete ricompare il tricolore che ormai diventa uno stemma fondamentale ecco abbiamo anche dei simboli che poi richiamano un po' per esempio il berretto rosso della rivoluzione francese dei Sanculotti eccetera e poi simboli romani i fasci la lascia eccetera per richiamare la Repubblica Romana perché perché queste repubbliche si rifanno anche alla Repubblica Romana ma ne parleremo poi in modo ancora più diretto quando arriveremo a Roma cosa succede però poi verso la fine diciamo di questo 1797 succede che a un certo punto Napoleone deve andare all'incasso cioè deve consolidare sul piano diplomatico internazionale quelle che sono state le sue conquiste e l'unico modo per farlo è quello di trattare con gli austriaci andare proprio dove si trova un campo militare degli austriaci a Campoformio nell'attuale Friuli Venezia Giulia se non erro eccolo qua lo trovate vedete invece scritto proprio in questa cartina Campoformio per trattare per arrivare a un compromesso un po' dobbiamo dire la verità Napoleone ancora teoricamente almeno sotto il potere del direttorio e il direttorio ripeto non aveva questa grande intenzione di liberare il Veneto espandere la rivoluzione francese anche in Veneto poi la situazione era tale per cui come dire valeva la pena adesso di raccogliere quello che si poteva raccogliere il più possibile senz'altro però facendo un compromesso con l'Austria tutto questo portò all'accessione del Veneto all'Austria insomma la Repubblica di Venezia divenne una sorta di ricompensa chiamiamola così data agli austriaci perché loro accettassero la perdita per esempio del Lombardo diciamo della Lombardia che era stata tra l'altro un centro importante ricordate Maria Teresa Giuseppe II eccetera di un regime anche illuminato diciamo la verità ecco quello che si era appunto instaurato nel Lombardo Veneto diciamo nel Lombardia appunto sotto gli Asburgo nel Settecento la Repubblica di Venezia ormai un po' come la Repubblica di Genova non ha più nessun peso a livello diplomatico internazionale e quindi è destinata come quella di Genova a cadere per sempre e questo è sicuramente qualcosa che ha colpito profondamente i veneziani soprattutto quelli che invece avevano sperato in una democratizzazione del Veneto di Venezia eccetera come Ugo Foscolo e che invece adesso si trovano sotto il regime asburgico odiato e questo è un po' il trattato di Campofornio con i suoi punti forti ma anche quelli deboli ecco qui abbiamo la cartina che ci mostra appunto il Piemonte che come dire viene già considerato una parte della Francia in buona sostanza annesso alla Francia la Repubblica Ligure poi la Repubblica Cisalpina ecco attenzione prima abbiamo visto la Cispadana poi sempre in quel 1797 termina la vicenda della Repubblica Cispadana e l'Emilia si unisce con la Lombardia in buona sostanza per formare questa Repubblica che viene chiamata Cisalpina cioè di qua delle Alpi e poi ci sono la Toscana anch'essa comunque conquistata diciamo così dai francesi e poi abbiamo appunto la Repubblica Romana in realtà la Repubblica Romana non viene conquistata già nel periodo del Trattato di Campoformio ma si creano le condizioni perché nasca in un periodo seguente anche quella Partenopea per esempio adesso vedremo infatti la nascita della Repubblica Romana e della Repubblica Partenopea prima di tutto facciamo già un po' di sintesi quali sono i territori liberati dei francesi quali sono i governi repubblicani che si insediano ecco noi abbiamo evidenziato perché tra l'altro ha creato tanti di quegli stati di quelle repubbliche Napoleone adesso non vogliamo citarli tutti per esempio i toscani devono molto i lucchesi gli abitanti di Piombino a Napoleone perché ha dato loro molta importanza diciamo però ecco noi ci siamo soffermati su questo perché abbiamo visto il passaggio dalla reggiana bolognese alla poi la divisione tra la Transpadana che è la prima repubblica tra virgolette filofrancese in Lombardia e la Cispadana che poi si riunificano nella Cisalpina poi abbiamo parlato della Repubblica Ligure e poi aggiungiamo la Repubblica Romana che corrisponde a quelli che una volta erano i domini pontifici e la Repubblica Partenopea ex regno di Napoli esclusa la Sicilia andiamo infatti a parlare di queste ultime due repubbliche no prima ritorniamo un po' alla Repubblica Ligure dovete sapere infatti che fra le varie leggi che vengono subito emanate in questi nuovi stati liberati vi è quella delle soppressioni dei privilegi dei nobili e lo possiamo vedere testimoniato da questa fotografia che è ancora presente a Taggia dove c'è un portale dove è evidente che sono stati cancellati proprio staccati i blasoni gli stemmi nobiliari da questo portone dalla sommità di questo portone a seguito dell'editto della Repubblica Ligure del 1797 che impediva che ci fossero tutti questi privilegi nobiliari oh avevamo detto promesso che parlavamo della Repubblica Romana era successo una specie di incidente diplomatico cioè negli scontri fra i repubblicani filofrancesi romani e le truppe invece diciamo conservatrici reazionarie era morto un amico un francese un gendarme insomma francese amico di Napoleone questo portò automaticamente ad una reazione da parte dell'esercito francese che non è più guidato da Napoleone perché nel frattempo il direttorio ha pensato bene di distogliere Napoleone da questa campagna d'Italia e di indirizzarlo verso l'Egitto una campagna d'Egitto che doveva avere anche lo scopo oltre a quello di tagliare un po' quelli che erano le vie commerciali dell'Inghilterra grande nemico della Francia contro il quale ancora non era possibile e non lo sarà anche in seguito prevalere sul campo di battaglia cercare di tagliare appunto le vie commerciali e nello stesso tempo anche allontanare ancora di più Napoleone dalla Francia perché cominciava ad essere un personaggio un pochettino troppo invadente per il direttorio e come dire un personaggio anche che stava coagulando intorno a sé un forte consenso preoccupante per chi doveva o avrebbe dovuto detenere il potere quindi lui non c'era nel 1798 quando entrarono le truppe francesi a Roma per la rappresaglia di quello che era avvenuto negli scontri perché dobbiamo sapere che in Italia non erano tutti pro-Napoleone alcuni erano pro-Napoleone li abbiamo definiti così li abbiamo definiti repubblicani filofrancesi spesso venivano chiamati Giacobini più che altro dagli altri perché era un termine che aveva delle connotazioni un po' negative ricordava il terrore eccetera mentre loro si consideravano liberali borghesi progressisti incominciavano a lottare anche da soli contro chi deteneva il potere da secoli in quelle zone ecco perché c'erano stati questi scontri interni e i francesi erano intervenuti poi appunto per rappresaglia per quella morte di quel francese occupando lo stato della chiesa e facendolo diventare una repubblica romana ecco perché vi sto spiegando i vari simboli della repubblica romana perché perché si crea una repubblica e proprio a Roma laddove in un certo senso la storia della repubblica in un certo senso era nata lo stesso termine se vogliamo di repubblica e il papa costretto ad andarsene via troviamo questo dipinto dell'ingresso delle truppe francesi a Roma del 10 febbraio del 1798 in un museo di una piccola città francese Visille il museo della rivoluzione francese più o meno la stessa cosa avviene a Napoli a Napoli abbiamo qualche tempo dopo un annetto quasi dopo abbiamo l'ingresso dell'esercito francese anche stavolta non c'è insomma Napoleone è un altro dei suoi generali si chiama Championet che entra a Napoli 23 gennaio del 1799 e viene instaurata così la repubblica napoletana ma loro adoravano chiamarla repubblica partenopea per ricordare anche perché erano in genere amanti del mondo classico per ricordare ciao ciao Simone per ricordare appunto l'antichità classica le ninfeo le divinità comunque del mondo classico come partenope e così si presenta quindi l'Italia nel 1799 questa volta abbiamo una cartina molto simile alla precedente ma con le scritte in italiano e quindi possiamo vedere questo Piemonte che è sostanzialmente annesso alla Francia mentre la Toscana e la Corsica che però del resto un anno prima della nascita di Napoleone era già stata annessa alla Francia colorati con questo bordo blu che insomma è da considerare appunto l'appartenenza alla Repubblica Francese poi abbiamo la Repubblica Ligure abbiamo la Repubblica Cisalpina abbiamo invece il Veneto che è stato affidato agli Asburgo in questo caso invece il colore come vedete è completamente diverso poi abbiamo la Repubblica Romana la Repubblica partenopea e invece rimangono fuori da questa occupazione del suolo italiano le isole il regno di Sardegna dove si è rifugiato il re di Sardegna appunto si chiamava così perché in realtà i re piemontesi i re savoiardi si chiamavano cioè quello si chiamava già il regno di Sardegna e poi il regno di Sicilia se prima non so c'erano due Sicili chiamiamole così adesso invece i borboni devono accontentarsi di una Sicilia sola quella vera e propria quella insulare dove vanno a rifugiarsi in questo periodo un po' difficile per loro ma poi cosa succede che essendo lontano Napoleone si creano i presupposti perché gli austriaci riconquistino dei territori nell'Italia centro settentrionare e perché la Repubblica partenopea abbia la sua fine e perché si ricostituisca e si ricomponga il regno borbonico dell'Italia meridionale anche con l'aiuto della Chiesa e delle insorgenze un'insorgenza l'abbiamo già vista nella Repubblica nella Rivoluzione Francese e l'insorgenza vandeana nell'Italia meridionale invece abbiamo l'insorgenza sanfedista di che cosa si tratta? si tratta di reazioni alla estensione del regime repubblicano del regime della Repubblica francese del regime francese eccetera nelle zone di campagna perché nelle zone di campagna i contadini non trovano grandi guadagni insomma da queste conquiste francesi come invece magari possono trovarlo i borghesi gli intellettuali e quindi affidandosi come hanno sempre fatto per secoli alla gerarchia ecclesiastiche addirittura i contadini prendono le armi contro la Repubblica partenopea e persino un cardinale il cardinale Fabrizio Rufo comanda queste schiere che sono così definite l'esercito della Santa Fede ecco perché si usa il termine sanfedisti sono schiere che appoggiate diciamo anche se magari non direttamente sia dai Borboni sia da Orazio Nelson e dagli inglesi queste schiere giungono fino a Napoli e portano alla riconquista di Napoli da parte anche dei Borboni con una vera e propria guerra civile e come ci sarà in questa Italia meridionale non ci sarà da nessun'altra parte così cruenta con massacri dei filofrancesi e con una caduta di questo progetto della Repubblica Partenopea che poi da uno di questi stessi fautori di questa Repubblica cioè dall'intellettuale Vincenzo Cuoco viene così definita una rivoluzione passiva cioè una rivoluzione che non è riuscita a coinvolgere il popolo ecco perché è fallita una rivoluzione che è stata troppo tra virgolette figlia di quella francese senza alcuna distinzione e per questo motivo quindi non è stata accettata dal popolo per esempio cosa scrive Vincenzo Cuoco in questo libro io non ispero molto da quelle costituzioni che la forza ha dettate che questa forza sia quella di un conquistatore il quale dispone di centomila baionette o di un'assemblea di filosofi le costituzioni durevoli sono quelle che il popolo si forma da sé ecco perché dice questa è la causa del fallimento ciao Gianni grandissimo amico grandissimo quasi mi vergogno perché sei un grandissimo professore di storia di parlare di queste cose dicevamo quindi che queste riflessioni questo saggio di Vincenzo Cuoco arrivano a colpire anche molto Alessandro Manzoni che le condivide infatti lo sappiamo benissimo per Manzoni importantissimo è il legame degli intellettuali con il popolo se manca questo legame la rivoluzione fallisce come appunto quella della Repubblica partenopea nell'Italia meridionale a questo punto però Napoleone ormai la situazione in Italia sembra compromessa e l'unico modo per risistemare le cose è quello che Napoleone riprenda la infinita terminata la campagna d'Egitto quindi inizierà la seconda campagna d'Italia la seconda campagna d'Italia sarà altrettanto vittoriosa quanto è stata la prima la battaglia principale che vede la vittoria dei napoleonici è la battaglia di Marengo del 14 giugno del 1800 è la seconda campagna d'Italia dopo questa campagna abbiamo la formazione di un'altra repubblica per il momento c'è ancora la repubblica cisalpina che come vedete in questo quadro di Nicolas André Monsieu riceve il primo console perché nel frattempo Napoleone è diventato primo console c'è stato un colpo di stato in Francia vi ricordate l'abbiamo detto nelle elezioni precedenti e quindi il 26 gennaio del 1802 questa consulta della repubblica cisalpina riceve il primo console può darsi che la consulta consista soprattutto vi dicevo in queste due camere c'è il bicameralismo anche allora riunite per accogliere il primo console la situazione sta cambiando e tanto per incominciare al posto di questa repubblica cisalpina verrà creata una che si chiama proprio repubblica italiana e quindi questa è la prima repubblica italiana che nasce nella storia che riprende recupera la repubblica cisalpina con l'annessione anche del Veneto perché il Veneto viene riconquistato e questa parte arancione non so se riuscite a scorgerla poi abbiamo tutte le zone annesse alla Francia quindi parte del Piemonte la Liguria la Toscana anche perché come dire l'esperienza della repubblica romana si era conclusa e allora adesso c'è appunto l'annessione anche del Lazio se vogliamo alla Francia insieme con la Corsica mentre invece la costa tra virgolette possiamo definirla così abruzzese marchigiana fa parte di quella che viene chiamata la Repubblica italiana mentre quella meridionale viene chiamata la Repubblica di Napoli questo è un po' l'assetto diciamo così dell'Europa fino al momento in cui Napoleone diventa imperatore e automaticamente quelle che erano repubbliche diventano regni dove lui è il re e diventa re d'Italia al posto di console dicevamo prima diventa imperatore di Francia e re d'Italia e avrà il suo vicere Eugenio ad esempio se non sbaglio proprio a Milano e poi ci sarà il regno di Napoli con alcuni aspetti che adesso andremo ad analizzare perché a noi interessa adesso chiudere questa carrellata dell'Italia napoleonica dicendo che comunque l'Italia napoleonica che ormai abbiamo visto dopo la proclamazione dell'impero è essenzialmente divisa in impero francese che si estende fino a dicevamo appunto alla Toscana a Lazio a Piemonte a Liguria e che non comprende però la zona di Lucca dove c'è la Repubblica di Lucca perché Lucca è molto debitrice diciamo così come Piombino dicevo prima a Napoleone di una propria indipendenza di una propria autonomia poi abbiamo il regno d'Italia giusto con capitale Milano ma che comprende anche il Veneto con Venezia e il regno di Napoli la Sicilia e la Sardegna rimangono ai vecchi tra virgolette re dell'ancien regime cioè la Sardegna ai Savoia la Sicilia ai Borboni e questa è l'Italia che nel 1810 andrà poi anche a sostenere Napoleone perfino nelle campagne qualche anno prima nelle campagne in Germania battaglie di Austerlizien eccetera e poi anche nella campagna militare disastrosa devo dire la verità in Russia dove comunque gli italiani si distingueranno anche per valore però appunto questa campagna sarà poi persa da Napoleone il quale poi adesso non stiamo qui a ricordare gli eventi diventerà poi dopo la sconfitta insomma contro le truppe della coalizione antifrancese sarà relegato nell'isola d'Elba però è una specie di prigione d'oro pensione d'oro la possiamo chiamare così perché lui era principe dell'isola d'Elba e insomma se a voi dicessero guarda diventi principe dell'isola d'Elba avrai ville in tutta l'isola e potrai godertela fino alla fine dei tuoi giorni voi non sareste d'accordo ma a Napoleone invece la cosa non bastava ecco e così i suoi amici lo rimisero in piedi lo riportarono in Francia per esautorare il re Carlo VIII e no scusate forse c'era Luigi XVIII in Francia però poi ci fu la sconfitta definitiva di Waterloo e Sant'Elena e tutto quello che abbiamo visto la volta scorsa ma adesso arriviamo alla depositiva più importante che ho creato per voi cioè quella dei pro e contro Napoleone in Italia che possiamo anche definire in generale pro e contro Napoleone quali sono stati i vantaggi dell'età napoleonica per l'Italia per l'Europa e quali sono stati gli svantaggi Allora il primo vantaggio la costituzione di stati repubblicani moderni beh prima abbiamo fatto accenno alle repubbliche di Genova e di Venezia che erano un po' oligarchiche diciamo la verità e che insomma avevano un assetto non così moderno dal punto di vista delle istituzioni non c'era stato non era stato applicato Montesquieu come invece sicuramente in queste repubbliche l'adozione di carte costituzionali sul modello francese del 1795 il modello francese del 1795 possiamo dire svolta termidoriana un po' riprendeva anche la costituzione del 1792 quella della fase borghese insomma moderata borghese della rivoluzione francese laddove il suffragio era su base censitaria cioè potevano votare quelli che avevano un certo reddito e che quindi potevano garantire dei tributi allo Stato era una costituzione comunque liberale in cui erano presenti dei diritti importanti della persona pensiamo per esempio al diritto ai diritti concessi agli ebrei che non ne avevano avuti per secoli pensate appunto agli ebrei ad esempio del ghetto di Roma che furono tra virgolette liberati cioè nel senso fu permesso loro di uscire dal ghetto e di avere e di godere di tutti i diritti perché i cittadini comunque sono considerati uguali di fronte alla legge magari non tutti possono votare abbiamo detto prima però da un punto di vista dei diritti sono uguali di fronte alla legge sto ovviamente sintetizzando in un modo molto generico però ci sono questi punti fermi c'è il codice napoleonico che viene adottato anche nelle repubbliche sorelle cioè nelle repubbliche nate da queste conquiste dell'esercito francese partendo dal nord abbiamo la repubblica Batava più o meno in Olanda la repubblica elvetica più o meno in Svizzera e poi abbiamo tutte queste repubbliche italiane che come avete visto sono la gran parte insomma delle repubbliche sorelle nelle quali comunque vige il codice napoleonico un codice di leggi sul quale c'è la mano di Napoleone il quale era interessato anche a partecipare alla stesura di questo codice importante ordinamento delle leggi preesistenti e prodromo dei codici insomma dei codici civili penali eccetera dei secoli successivi in tutte queste repubbliche ci furono leggi modernizzatrici altro pro altri vantaggi di questa conquista napoleonica ad esempio il matrimonio civile cioè incominciò ad essere possibile sposarsi anche nelle sedi civili prefetture eccetera e non solo in chiesa la riduzione della mano morta si trattava praticamente di un di privilegi soprattutto ecclesiastici nobiliari eccetera su determinati territori anzi furono confiscati questi territori questi terreni tolti privilegi di ogni genere dazi e gabelle di ogni genere tra l'altro soprattutto poi nell'età imperiale un italiano che doveva spostarsi da una zona all'altra non doveva più pagare i dazi e le gabelle che si erano pagati per secoli e secoli perché l'Italia era frammentata in tanti stati in buona sostanza dobbiamo riconoscere che se non ci fosse stato Napoleone proprio gli italiani non avrebbero ancora sperimentato la possibilità di uno stato unitario in cui non fosse obbligatorio pagare delle tasse per passare da una regione all'altra come invece era stato da secoli per non dire da millenni quasi il tricolore che come abbiamo visto è nato proprio in questo periodo poi dicevamo le terre ecclesiastiche vengono confiscate per foraggiare però questo poi entrerà un po' nei contro anche per foraggiare diciamo le imprese della Francia l'ordine pubblico ah sì dovete sapere che per esempio tra 700 e 800 c'erano moltissimi briganti anche in Piemonte non è che c'erano solo in Basilicata Calabria Campania no ce n'erano anche in Piemonte arrivarono i gendarmi francesi sconfissero i briganti in tante altre zone d'Italia e questo fu una cosa talmente come dire positiva che i Savoia quando ripresero il potere dopo il congresso di Vienna inventarono tra virgolette l'arma dei carabinieri che in realtà non fu inventata da loro ma non era altro se non una trasposizione una italianizzazione della gendarmerie francese cioè di una forza dell'ordine operante sul territorio quindi con lo scopo e la missione di garantire l'ordine capillarmente in tutte le zone anche lontane tra virgolette dalle capitali l'abolizione delle dogane interne l'unificazione di quelle verso l'estero se vogliamo anche l'Europa la prima tentativa insomma di Europa unita in un certo senso si ebbe con Napoleone in quegli anni soprattutto dell'impero l'unificazione del sistema di monete di pesi di misure che anche qui per secoli erano come dire quasi regionali provinciali per non dire cittadini ecco questi 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 pesi o queste misure il ripianamento del debito pubblico questo però soprattutto con le confische la costruzione di nuove infrastrutture ogni tanto andando in giro per l'Italia scopriamo che un'accademia piuttosto che un altro edificio un'altra istituzione e per esempio pensiamo alle scuole sono nate già in periodo napoleonico ci teneva tanto le scuole Napoleone e voleva potenziare l'istruzione soprattutto l'istruzione superiore era interessato che l'istruzione superiore non fosse più nelle mani come avveniva fino ad allora degli ordini religiosi quali sono i contro le repubbliche sorelle minori come quelle italiane devono essere primo controllate dalla Francia di fatto sono francesi due usare la lingua francese negli atti diplomatici e non solo insomma come gli italiani già facevano fatica a conoscere l'italiano tra virgolette il toscano insomma sono costretti a usare il francese e non sempre lo vedono come qualcosa di positivo hanno gli italiani una sorta di idiosincrasia contro la boria francese poi contribuire progetti francesi contributi consegnare opere d'arte la Francia si arricchisce di opere d'arte si arricchisce di tributi che devono anche sovvenzionare sicuramente le campagne militari a danno dell'Italia per esempio e delle repubbliche sorelle tant'è vero che lo sapete abbiamo parlato di quella poesia dell'aprile del 1814 che Manzoni assiste al linciaggio di Prina questo ministro filo francese che aveva estorto tantissime tasse ai milanesi in modo particolare in generale agli italiani nel periodo della egemonia napoleonica e poi appena ritornaranno gli austriaci fu linciato dalla folla poi godono di scarso consenso popolare l'abbiamo già visto con la rivoluzione passiva di Vincenzo Cuoco ma questo si può allargare anche ad altre zone dell'Italia anche se devo dire la verità l'Italia è sicuramente fra le nazioni che hanno meno fatto opposizione all'egemonia napoleonica ci sono state molte molte più rivolte diciamo in Spagna in Germania per non parlare della Russia sanguinose sì è vero ci sono ristrette elitte intellettuali filofrancesi ma gran parte della popolazione è un po' diffidente il nepotismo questo soprattutto avviene nell'età napoleonica Napoleone accontenta i suoi parenti concedendo loro titoli in carichi di governo soprattutto nell'età imperiale e questo indubbiamente è visto come un piccolo neo diciamo così nella sua politica anche le elite quindi si disamorarono di Napoleone e cominciarono a riunirsi in sette segrete la carboneria così importante poi nell'età risorgimentale bene questo era il nucleo di quello che io volevo spiegarvi oggi come una sorta appunto di sintesi finale della nostra riflessione su Napoleone che come ricorderete ha occupato quindi quattro lezioni una sulla scesa l'altra su Napoleone diciamo console imperatore e poi quella sulla caduta di Napoleone e infine questa sull'Italia sotto Napoleone bene è arrivato per noi il momento di terminare il nostro incontro leggendo eventualmente oh quanti bei commenti su youtube buonasera professore una buonasera a tutti da Fulvio Pagliano buonasera a tutti Davide Tamburini buonasera a tutti Agata Amato ecco benissimo buonasera a tutti anche da Little Melvin sì Napoleone parlava italiano Napoleone era italiano in buona sostanza nel senso che la sua famiglia era la famiglia dei buona parte era una famiglia nobiliare di origine toscana la corsica è piuttosto legata alla toscana ma in toscana si dice buono non si dice mica bono bono dico i romanacci ma in toscana si dice buono buona parte buona parte però insomma già questo nei tempi era venuto un po' meno e quindi alcuni della sua famiglia erano chiamati buona parte invece di buona parte poi dicevamo che nel 1768 costoro diventano francesi e nel 69 nasce Napoleone e quindi anche per facilitare la pronuncia dei francesi la famiglia diventa dei buona parte ma lui parlava l'italiano anzi all'inizio si trova in difficoltà nelle accademie militari che deve frequentare Avrienne in Francia perché è un accento spiccato corso e addirittura simile all'italiano non parla bene benissimo fluentemente il francese parla l'italiano a casa sua si parlava l'italiano però questa cosa lui cercò sempre di metterla un po' da parte perché puntava molto molto moltissimo invece sul francese sì il trattato di Campoformio fu sicuramente un trauma per Foscolo legazioni vuol dire appunto un sistema chiamiamolo così federale lo stato della chiesa in realtà era una specie di uno stato federale per cui c'era il legato pontificio non so a Bologna Ferrara piuttosto che in altre zone soprattutto vi dicevo delle mine romagne ma non solo e queste venivano chiamate le legazioni non ho capito bene che cosa da che cosa i territori italiani sono stati liberati ah sì Foglio Pagliano sono stati liberati diciamo così dall'anzian regime ecco da quelli che erano i vizi dell'anzian regime però ripeto ci sono diversi punti di vista e quindi sicuramente c'è il punto di vista di chi invece dice chiaramente no gli stati italiani non sono stati liberati sono stati occupati conquistati dai francesi in che anno l'Inghilterra riprese la guerra contro la Francia ecco ci furono è una storia talmente complessa quella delle coalizioni antifrancesi per cui non siamo qui a soffermare ci furono sei o sette coalizioni antifrancesi ci furono dei momenti delle fasi in cui l'Inghilterra intervenne attivamente a sostenere le forze e i regimi mittele europei e ci furono invece delle fasi in cui rimaneva in sordina ma comunque sempre ostile anche se implicitamente ostile alla Francia quando si sbosse la guerra quale fu la sorta del regno di Prussia prima conquistato sconfitto insomma dai francesi che facciano cadere addirittura il sacro romano impero poi però di fatto mantenne sempre una certa autonomia e si risollevò fino a sostenere condurre la lega che poi sconfisse definitivamente Napoleone la stessa battaglia di Waterloo c'erano gli inglesi da una parte e i tedeschi prussiani dall'altra cosa fece Napoleone per sostenere il blocco continentale ah sì impose a tutte le nazioni che erano quantomeno alleate della Francia di non trafficare di non fare commerci con l'Inghilterra ma la Russia non come dire non portò fino alle estreme conseguenze questo rigido blocco continentale francese e questo fu anche la causa dello scoppio della campagna contro la Russia della guerra contro la Russia quindi gli esiti del blocco continentale non furono poi così positivi per la Francia non ottenne quello che era lo scopo che voleva ottenere cosa si intende con l'espressione idea di nazione e sentimento nazionale questo assolutamente lo vedremo le prossime volte magari parlando del risorgimento ma sta di fatto che comunque anche l'occupazione francese dell'Italia no dell'Europa in generale diede spunto diede adito alla nascita di questi sentimenti nazionali in Spagna in Germania e anche nella stessa Italia quale fu il contributo che Herder diede allo sviluppo e alla diffusione dell'idea di nazione su questo anche dobbiamo riflettere me lo segno la prossima volta adesso sta terminando la nostra diretta ho trovato interessante la chiarezza sul regno di Sardegna e sul regno di Sicilia altra nozione quella di tricolore e sì sicuramente stasera abbiamo imparato delle cose importantissime poi ancora non sapevo che l'arma dei carabinieri fosse venuta dalla gendarmeria francese no diciamo che si ispira in buona sostanza a quella che è la la gendarmerie francese i Savoia di per sé dicono che è una cosa loro che hanno inventato loro ma di fatto tante tante cose anche lo statalismo se vogliamo dei Savoia il centralismo dei Savoia lo presero chiaramente da Napoleone poi ancora non sapevo nemmeno l'origine di Napoleone è un'origine italiana assolutamente italiana fosse nato due anni prima sarebbe un italiano al cento per cento insomma un corso quantomeno ecco ah comunque Herder è sicuramente uno di quei filosofi che appunto diede il là nel in quel periodo insomma del come dire del romanticismo dell'idealismo diede il là ad alcune idee importantissime riguardanti proprio la filosofia della storia quindi l'idea di nazione il significato stesso di nazione letteratura nazionale libertà e origine della lingua nazionale e quindi tutti pensieri insomma elementi che andranno a sostenere quell'idea di nazione appunto di cui stavamo parlando prima benissimo ricordati quindi di Don Mervin e tutti quanti voi che ci avete seguito su youtube quindi Fulvio Pagliano Agatha Amato eccetera Davide Tamburini che ci troveremo giovedì a parlare della quarta crociata e quindi diamo appuntamento appunto giovedì sera 21 alle 20.45 o qualche minuto dopo e terminiamo lo streaming su youtube terminiamo lo streaming su facebook grazie a tutti